E' stato un weekend doppiamente gratificante per la famiglia Italservice con calcio a 5 e basket che al pala Megabox di Pesaro si gustano due vittorie al sapore di riscatto nel giro di appena 24 ore. Hanno cominciato i ragazzi del futsal venerdì sera riprendendo confidenza col successo dopo due urticanti KO in trasferta. Davanti al pubblico amico arriva invece la seconda vittoria su due apparizioni interne con un 4-2 alla fortitudo Pomezia in una partita vissuta in altalena. I laziali passano, morì lo schiocchiet pareggia ma Pomezia rimette il muso avanti andando all'1-2 all'intervallo. Nella ripresa arriva la reazione dell'Italservice che esulta col marcatore che non t'aspetti, il portiere Putano che sorprende il dirimpettaio Tarenzi con un rilancio. E' il preludio al galvanizzante 3-2 di Belloni, Pomezia non ci sta ma Putano dopo il gol para la grande e poi disegna pure l'assist per Murillo Schiocchiet che chiude sul 4-2. E' stata una bellissima partita, molto avvincente anche perché è stata molto combattuta, siamo stati anche in svantaggio ma il grande carattere, la grande squadra ha saputo rimontare. Quindi complimenti davvero ai ragazzi e trascinati da un bellissimo pubblico e questo è sempre una doppia vittoria insomma quindi siamo molto contenti. Incontravamo una delle migliori squadre del campionato che sicuramente come noi non aveva raccolto abbastanza per quello che aveva seminato ma a livello soprattutto tecnico una squadra fortissima. E chiaramente abbiamo sofferto ma sapevamo che sarebbe stato così, abbiamo qualche ragazzo che aveva recuperato in settimana quindi abbiamo stretto molto i denti. Però credo che alla fine la vittoria sia stata meritata perché la squadra ha lottato, ha creato tante occasioni. Abbiamo avuto anche un putano che obiettivamente ci ha tolto le castagne dal fuoco sia in fase difensiva che in fase realizzativa con il gol che ha fatto. Però penso che sia giusto perché la società crede molto in noi, il pubblico ci sta seguendo e quindi è stata veramente una gran bella festa vincere qua a Pesaro. Ora Little Service di Calcio 5 sarà di nuovo in campo nel turno infrasettimanale del 1 novembre con la maxi trasferta che si disputerà a Catania alle 17. Giovedì 2 novembre tornerà invece al pala Megabox Little Service Loreto Basket per affrontare il derby contro la Bramante, attuale capoclassifica del torneo. Sarà un autentico big match perché il Loreto Basket ci arriva forte di un secondo posto in classifica a meno 2 dalla vetta, frutto della vittoria ritrovata sabato sera col Pescara 2.0 con il punteggio di 76-50 al termine di un match condotto sin dai primi istanti e che tira una riga al precedente K.O. di Roseto. Avevamo chiesto un atteggiamento più aggressivo dall'inizio vista la brutta prestazione della partita precedente a Roseto. La reazione c'è stata, i ragazzi hanno risposto bene e finalmente abbiamo visto da quel punto di vista un miglioramento. Abbiamo visto che le partenze nel primo e secondo quarto erano sempre un po' a rallenti, oggi invece abbiamo un po' invertito la tendenza, siamo partiti molto bene e abbiamo praticamente chiuso la partita già nel primo quarto. Abbiamo potuto ruotare tutti i giocatori anche in vista della prossima partita che è un'infra settimanale.